Ciao a tutti e benvenuti nel nostro canale. Oggi vi parleremo delle incredibili anticipazioni di Endless Love dall'11 al 14 giugno. Preparatevi per momenti ricchi di emozioni. Una tragedia colpirà Nian, che finirà saltando nel vuoto, proprio come fece Muskan, la madre di Emir. Kemal sarà disperato per Nian, mentre Emir finirà dietro le sbarre. Non dimenticate di iscrivervi al nostro canale, lasciare un like e attivare la campanella per non perdere nessuna delle nostre anticipazioni. Banu è profondamente gelosa delle attenzioni che Tariq sembra riservare a Pelin. Nonostante lui neghi qualsiasi interesse, la sua rabbia per il tradimento di Banu è ancora forte. Nel frattempo, Nian chiede a Leila di consegnare una lettera a Kemal. Arriva il giorno dell'Assemblea generale del CDA della Kosjolu Holding. Durante l'incontro, Kemal sorprende tutti con un intervento clamoroso, annunciando che presto inizieranno i lavori per rendere operativa una vecchia miniera trovata nel terreno della centrale termoelettrica. Fuori dall'azienda, Leila consegna a Kemal la lettera di Nian. Leila osserva mentre Kemal legge le parole di Nian, che gli chiede di incontrarsi in un luogo segreto quella notte. Quella sera, Emir entra nella stanza di Nian, dichiarando che il loro matrimonio rappresenta per lei una forma di libertà e che una nuova fase della loro vita sta per iniziare. Nian, però, finge stanchezza e chiede a Emir di lasciarla in pace. Emir se ne va, incontrando di nuovo Zeynep. Lei non esita a fargli notare che Nian non lo amerà mai. Poco dopo, Zeynep, sotto gli occhi di Ozan, finge di avere delle forti nausee, lasciando credere al marito di essere incinta. Per rafforzare il suo inganno, Zeynep si procura un test di gravidanza positivo, appartenente a un'amica di Sema. Ozan è felicissimo, ma Zeynep lo ricatta. Porterà avanti la gravidanza solo se lui le racconterà tutti i segreti della sua famiglia. Nian è rientrata ufficialmente a casa del marito, ma nonostante questo, tramite l'aiuto di Leila, riesce a inviare una lettera a Kemal. I due si incontrano segretamente nella casa vuota dei genitori di Yasemin, attualmente all'estero. Durante l'incontro, Nian propone a Kemal di trascorrere insieme la notte, ma il loro momento viene immortalato da Gokhan, che scatta foto del loro incontro segreto. Subito dopo, Asu incarica Gokhan di pubblicare le fotografie, pianificando di mostrarle a Emir. In seguito, Asu contatta Tufan, rivelando che, grazie alle foto, Kemal e Nian non si vedranno più. Tufan, tuttavia, le fa notare che questa azione rischia di compromettere anni di lavoro e i loro piani di vendetta. Asu, consapevole dei rischi, risponde di non aspettarsi che lui capisca, poiché non ha mai sperimentato un amore tanto forte da sacrificare tutto per esso. Nel frattempo, presa dall'emozione di quell'incontro rischioso, Nian esprime il desiderio di fare l'amore con Kemal, temendo che quella notte possa essere l'ultima insieme. Tuttavia, Kemal, sentendosi sopraffatto dalla situazione e non all'altezza dell'importanza del momento, decide che non è il caso. Così, nonostante la vicinanza emotiva, i due finiscono per dormire nella stessa stanza, ma in letti separati. Le riviste pubblicano foto incriminanti di Kemal e Nian sulla spiaggia, suggerendo un incontro romantico clandestino tra i due. Emir, scoprendo le immagini, agisce furiosamente prenotando la stessa stanza d'albergo in cui si sarebbero incontrati la moglie e l'ingegnere. Poi, dà istruzioni a Tariq di portare Nian da lui. Mentre Nian raggiunge il cancello di casa, trova Tariq ad attenderla. Senza esitazioni, sale in auto con lui. Kemal, che assiste alla scena, inizia immediatamente a inseguire il fratello. Nel clima di crescente tensione, Kemal si precipita verso l'albergo, determinato ad affrontare Emir e proteggere Nian. La situazione, però, degenera rapidamente quando Nian, messa alle strette da Emir, è coinvolta in un grave incidente. La giovane si trova ora in bilico tra la vita e la morte. Nel frattempo, in un momento di sincerità devastante, Ozan rivela a Zeynep tutta la verità sul suo passato, inclusa la confessione dell'omicidio, e come Emir lo abbia salvato dal carcere in cambio del suo matrimonio con sua sorella. Zeynep è sotto shock, e Ozan la supplica disperatamente di non abbandonarlo. In seguito agli eventi tumultuosi, Emir viene arrestato per resistenza a pubblico ufficiale. Nonostante sia in custodia, incarica Tufan di organizzare i suoi uomini per sorvegliare l'ospedale dove è ricoverata Nian, con l'ordine esplicito di tenere Kemal lontano da lei. Parallelamente, Galip è angosciato e continua la sua ricerca di Nursen, ma senza successo. Kemal, mostrandosi un passo avanti, le ha trovato un nascondiglio sicuro. Durante una conversazione, Nursen rivela a Kemal che ha dato una copia di una foto significativa a suo figlio quando si separarono, una foto che Kemal riconosce di aver già visto. Zeynep, intanto, agisce nell'ombra. Ha sottratto il passaporto di Nihanda a casa Setsin, e ha prenotato due biglietti di sola andata per una nave, pianificando una fuga per lei e Kemal. Nel frattempo, Galip, profondamente preoccupato per Emir, teme che Kemal possa architettare un piano vendicativo contro di lui e cerca di mantenere i due uomini separati. Tufan, dal canto suo, riceve una soffiata su Kemal e avverte quest'ultimo che Galip sta indagando su di lui. Kemal capisce anche che il biondo è in realtà il figlio di Nersen. Terminano qui queste nostre anticipazioni. Se volete ricevere nuovi video della serie, scrivete Voglio il seguito nei commenti e, se il video vi è piaciuto, lasciate un like e iscrivetevi al canale per ricevere in anteprima le prossime pubblicazioni. Grazie!